benvenuto nel programma ferrari chef mi chiamo signor ferrari sono uno chef italiano yes this is the best meat knife in the world yes questo è il miglior coltello da carne del mondo questo è il miglior coltello da carne del mondo questo è il miglior coltello da carne del mondo questo è il miglior coltello da carne del mondo questo è il miglior coltello da carne del mondo problem thank you very much you saved me i will almost die fire fire yes this is the best meat knife in the world, yes? Ducata. Perfetto.